A un certo punto mi fermo vicino alla sua emafora che ero russo, ma non mi sono fermato perché ero russo perché mi serveva nel lampadino. A un certo punto mi sono vicino al classico milanese tatteggiato e sono una mercedessa Benz e penso che mi posso accattare pure io frate che sono una cammisa raputa talmente uno fritto di pila in pietta se erano abbracciata Un Rolex su 11 kg ora un coppo raccia Un milanese mi guarda e mi fa Uè Napoli, ma lo sai che a Milano con questo motore non mi fa ridere? Ho risposto Milano, non ti preoccupa che se vieni a Napoli con questo rilorcio ti faccio immaginando Forza Napoli! Forza! Forza tutto! Forza Campania! Forza!